Siamo nei tempi, io cederei il controllo della situazione all'amico Steven e iniziamo con la sessione degli Innovation Champions. Buongiorno, iniziamo a dire che la mia voce non è molto presente, avevo telefonato ieri a Michele dicendo che domani non ce la faccio perché la voce non mi esisterà, lui ha detto ma hai problemi con la voce? Sì, perfetto, va benissimo, così parli di meno. Allora, con questa promessa cercherò di parlare molto poco e così lasciare più tempo possibile ai nostri interventi. Chiamo subito l'attenzione a tutti alle tre domande, le tre domande che nella corsa della giornata speriamo di venire fuori con un bel quadro che riassume un po' il lavoro della giornata. Allora, aggiungendo un po' una cosa, Innovating Innovation che sta nel titolo, quello che stiamo cercando di vedere è come sta cambiando il modo di fare innovazione. Cioè, quindi qual è il what change? Cioè, come cambia questi meccanismi? Tutti i centri di ricerca e università stanno vivendo queste cose, Sapienza Innovazione, che la mia organizzazione parlerò più tardi, quindi non prendo altro tempo adesso. Naviga nell'ecosistema cercando di capire esattamente cosa sta cambiando nel modo di fare innovazione oggi. Forse a fine giornata penso che qualcuno farà vedere una force field analysis o una cosa di questo tipo, perché è questo il punto. Cioè, quando parliamo di boosters e blockers, noi pensiamo che tutto sommato noi siamo fermi, la sensazione è di essere fermi. Allora sappiamo una cosa, che se noi aumentiamo un booster e riusciamo a ridurre un blocker, questo meccanismo inizia ad accelerare nella direzione giusta. Quindi ci vuole poco, basta cambiare poco. Per ora ci sono, come senteremo, io mi auguro che senteremo tantissimi esempi di aumenti di booster. Ci sono i booster. Basta che riduciamo qualche blocker e parteremo come tutti gli altri paesi stanno partendo. Con questo vediamo i nostri interventi. Oggi abbiamo sei interventi sui champions. Praticamente quattro di questi sono reti di imprese. Il servizio di imprese rappresenta un strumento innovativo in sé, un nuovo modo di agire in collettività, per cercare di fare tante cose, non solo innovazione, ma anche innovazione e modo innovativo usando un strumento innovativo. E' uno spin-off e uno start-up. Allora, iniziamo. Tu dimmi che devi fare, poi. Ok, va bene. Allora, iniziamo col primo, che è Fondere Digitali. Mi conosco molto bene. Sapienza Fazzione è uno dei promotori di Fondere Digitali. Pietro Gabriele Filippo Moroni. E diventa una rete di imprese tra qualche giorno, quando vanno a sottoscrivere la corda davanti al notaio. Però esiste già Fondere Digitali da molto tempo, in realtà. La parola a voi. Grazie. 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 Grazie.